Ciao, sono Valentina Marchionno e sono una socia della cooperativa AMBRA. AMBRA ha deciso di prendere parte a questa iniziativa di Lundbeck Italia insieme per la salute mentale perché dopo tanti anni di lavoro in questo ambito, oltre all'attenzione rivolta alle persone che soffrono di un disturbo psichico, riteniamo che sia necessario sempre di più esporsi e cominciare a parlare, a mettere insieme le voci di istituzioni, di realtà, di cooperativa e delle persone stesse per poter combattere il pregiudizio sociale, che chi soffre di un disturbo mentale vive ogni giorno sulla propria pelle. Come cooperativa, perciò, crediamo che il modo migliore per andare oltre lo stigma sociale sia smettere di parlare di disturbi, ma cominciare a parlare di persone, perché questo è quello che fa e cerca di fare il mondo della salute mentale, prendersi cura delle persone e metterle al centro del proprio percorso di recovery. Grazie per la visione!